Il dissesto di un comune è una procedura che coinvolge sia la politica che il mondo economico finanziario. È cosa ben diversa dal fallimento di un'impresa privata, in quanto non si può determinare l'estinzione del comune, ma bisogna garantire la continuità amministrativa. La procedura dunque crea di fatto una frattura tra la precedente amministrazione e l'amministrazione controllata. Tutto ciò che concerne il progresso viene estrapolato dal bilancio comunale e trasferito alla gestione straordinaria, che si occupa della liquidazione e che ha competenza su tutti i debiti correlati alla gestione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se venissero accertati successivamente. L'articolo 244 del testo unico sull'ordinamento locale stabilisce che si ha dissesto finanziario quando un ente non è più in grado di assolvere alle ordinarie funzioni e ai servizi definiti indispensabili, quando nei confronti dell'ente esistono crediti di terze ai quali non si riesce a fare fronte con il prezzo ordinario del riequilibrio di bilancio, né con lo strumento straordinario del debito fuori bilancio. Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto del Comune, Sindaco, Giunta e Consiglio restano in carica, coaduati però da una commissione, disegnata dal Ministero degli Interni, incaricata di occuparsi del disavanzo pregresso, mentre l'amministrazione va a gestire il bilancio risanato. La sola ipotesi di commissariamento del Comune si verificherebbe nel caso in cui l'amministrazione non dovesse approvare il bilancio di previsione. L'ente dissestato è tenuto ad approvare un nuovo bilancio basato principalmente sull'elevazione delle proprie entrate a livello massimo consentito dalla legge. Vale a dire che tutte le tasse comunali, IMU, Addizionale Comunale e Tarsu, saranno aumentate il più possibile fino ad arrivare al tetto massimo consentito dalla normativa, basato inoltre sul contrasto all'evasione e sul contenimento di tutte le spese. Spese comunali che significano innanzitutto personale. La legge prevede infatti che gli impiegati comunali debbano essere nella misura di 1 su 93. Pertanto da questa procedura scaturiranno esuberi di personale che verrà posto in mobilità. Il Comune è altresì tenuto a contribuire all'onere della liquidazione, in particolare con l'alienazione del patrimonio disponibile, non strettamente necessario all'esercizio delle funzioni istituzionali. La destinazione degli avanzi di amministrazione di 5 anni a partire da quello del dissesto e delle entrate straordinarie, la contrazione di un mutuo a carico del proprio bilancio. Le conseguenze sugli amministratori sono limitate a quelli che la Corte dei Conti individua come responsabili del dissesto, imputando loro i danni per dolo o colpa grave e nei 5 anni precedenti il verificarsi del dissesto. Gli amministratori così riconosciuti responsabili non possono ricoprire per un periodo di 5 anni incarichi di assessore, revisore dei conti di enti locali o rappresentante di talienti presso istituzioni, organismi ed enti pubblici e privati. Quando valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, si accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni o omissioni per le quali l'amministratore viene riconosciuto responsabile. Le conseguenze sui creditori riguardano i rapporti obbligatori rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, consistono nella cristallizzazione dei debiti che non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria, nonché nell'estensione delle procedure esecutive in corso, con conseguente inefficacia dei pignoramenti eventualmente eseguiti e nell'impossibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente. La dichiarazione di dissesto ha effetti sulla disciplina da applicare alla gestione durante il periodo intercorrente tra tale dichiarazione e l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il Sindaco e il Consiglio Comunale possono solo richiedere la dichiarazione di dissesto.